Andy Sotteggio, ben tornato alla vigilia di una partita importante, beh anche i tifosi si stanno facendo sentire. Prima di tutto, benvenuti. Anche i fanci hanno venuto a Piano per chiedere la squadra dopo alcuni risultati difficili, quindi è un'ottima forma di preparare per il derby. Grazie mille per i fanci che venivano in, per l'Inter. E so che stiamo vivendo una situazione molto difficile ora, ma crediamo che possiamo avvicinare tutte queste cose con il spirito che abbiamo. E ovviamente il supporto del gesto e anche dei fanci. Quindi stai guardando un San Siro che sarà pieno domani, sarà venduto con molti fanci che già chiantano contro AC Milan. i nostri tifosi, e tutti stai guardando questi ragazzi, lavorando, quindi si stanno preparando in un buon modo per la partita di domani. E in più la squadra sta lavorando al massimo per la partita di domani. Sì, sono qui per la partita di domani per supportare il team. Siamo che ora non è facile, ma, ancora, abbiamo bisogno di supportare il team tutto il tempo. Siamo che ci saranno una grande matcha domani contro AC, ma crediamo che possiamo vincere. Sembra che il derby si è già iniziato. Si, sembra che il derby si è già iniziato. Si, è già iniziato, probabilmente una week ago, quando i tifosi, non so se si è venduti o non, ma, sì, questa è l'intensità che sempre abbiamo nel derby, nel derby, nel derby. Quindi, aspettiamo che sia un grande match domani. Che cosa sta notando dalla squadra mentre si allena? Quali sono le sentimenti per guardare il team mentre si trattano? Il team è in un buon spirito, è importante. Ho parlato con il coach e il coach dice che tutti sono pronti per la match domani, quindi siamo in un buon modo. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.ito, chiama all'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli. Prova Interchannel